Vivere Sanremo nei giorni del festival. Un sogno che si realizza quello dei giovani pesaresi Federico e Matteo che da un reel virale su Instagram sono riusciti a trovare il sostegno per approdare al festival. Intanto l'ambita crociera pre-festival per poi coltivare possibilità non disprezzabili di entrare pure all'Ariston. Dallo scorso 10 gennaio infatti il giovane youtuber e influencer pesarese Federico Fontana aveva pubblicato un video sui social che aiutasse a trovare il modo di far vivere al suo amico Matteo la propria passione viscerale verso la massima manifestazione canora italiana. Un appello accurato raccolto per prima dalla consigliera comunale Giulia Marchionni che ha trovato terreno fertile in golf commercio e nel tour operator Criluma. Io mi sono imbattuta nel reel di Federico e di Matteo in cui veniva raccontato un sogno. Federico avrebbe avuto il piacere di andare insieme a Matteo durante il festival di Sanremo di essere lì. Io mi sono chiesta che cosa posso fare, come posso in qualche maniera essere di sostegno. Allora ho fatto qualche telefonata, una delle quali tra le prime ad Agnese Truffelli, alla vice direttrice di Confcommercio e le ho detto Agne proviamo a realizzare questo sogno. E così è stato perché oggi siamo qua perché finalmente un piccolo, in parte almeno il sogno di Federico e Matteo si realizza grazie a Confcommercio, grazie al cuore grande delle aziende del nostro territorio che sono di sostegno e di supporto. Allora abbiamo provato a fare un tentativo e non pensavamo assolutamente di ricevere così tanto supporto da così tante persone. Il video è andato benissimo sia su Instagram che su TikTok. Tantissime persone hanno commentato, tantissimo sostegno e c'è stato grande aiuto, tante persone si sono offerte di aiutarci e soprattutto, come oggi, si sono offerti Criluma e Confcommercio che hanno unito le forze e adesso non siamo proprio riusciti ad entrare a Sanremo, per ora ancora incrociamo le dita però riusciremo a partecipare alla crociera che è pre-Sanremo e ci godremo questi giorni lì a Sanremo e i giorni successivi gireremo un po' tra le vie per vivere, sì, la vita sanremese durante i giorni del festival e la speranza rimane comunque viva che qualcuno ci noti e poter partecipare a una delle serate sarebbe veramente un sogno incredibile. Purtroppo le prenotazioni per il Sanremo partono dall'anno precedente e per l'anno successivo quindi ad oggi prenotiamo per il 2025. Diventava sicuramente una sorta di missione impossibile ma non l'abbiamo assolutamente mollato perché lo scopo finale era veramente portare Matteo nella capitale della musica italiana visto che lui poi è un grande stimatore del Sanremo siamo riusciti grazie a rete di contatti, grazie a Giulia, grazie a Criluma a portare Matteo al pre-Sanremo, cioè lui sarà sulla costa crociera e godrà tutte le scene dietro le quinte del Sanremo e magari, stiamo ovviamente continuando a lavorare perché magari si realizzi anche l'occasione di poter affacciarsi realmente alle giornate del Sanremo o comunque goderselo durante la costa crociera e quindi nei giorni che poi sono dedicati al Sanremo. È sicuramente stata per noi una missione difficile però una missione che ci riempie di orgoglio come Confcommercio perché al di là di quello che è la nostra missione, quello del core business cioè della tutela dell'impresa è sicuramente aiutare una persona a realizzare i suoi sogni aiutare una comunità a sentirsi realizzata è per noi comunque motivo di stimolo, di crescita ma è una crescita anche professionale e anche per le imprese.